Gianni Amen, compleanno solidale per il protagonista di Viola come il mare, l'iniziativa. Viola come il mare, compleanno in arrivo per il suo protagonista maschile Gianni Amen. Anche quest'anno ha deciso di festeggiare all'insegna della solidarietà. Lunedì, 8 novembre, compirà 32 anni. Cosa ha organizzato? Viola come il mare, l'associazione di Gianni Aman e un evento all'insegna della Solidarietà per conoscere l'attore e il futuro Francesco Demir di Viola come il mare l'estate scorsa ha fondato un'associazione on-lus per i bambini, che aveva già dimostrato di avere molto a cuore, la Gianni Aman for Children. La sua prima iniziativa riguarderà i piccoli pazienti del reparto di pediatria del Policlinico Umberto I di Roma, che Ken ha già aiutato. Sarà un incontro, in gergo questo tipo di eventi si chiama Magritte, incontra e saluta. Per conoscere l'attore nel parco divertimenti di Cinecittà World già in clima natalizio, dopo domani, quindi domenica 7 novembre, alle ore 15. Ciò avverrà su un palco di Cinecittà Street. Le sue stories di Instagram l'ex protagonista di Bittersweet Ingredienti d'amore, Daydreamer, Le ali del sogno, Mr. Wrong, Lezioni d'amore. Già visto anche in che Dio ci aiuti, ha spiegato che bisogna acquistare i biglietti come, sul sito Cinecittà World.it, usando il codice promo Caniamen. Il commento di Gianni Aman a proposito dell'evento, Gianni Aman ha spiegato su Instagram che il suo sogno più grande è quello di poter vedere i bambini ricoverati in ospedale e ritornare a giocare.